In Italia vi sono oltre 13 milioni di anziani, dei quali ben 12 milioni sono nonni. Un valore socio-economico enorme, soprattutto se si considera che troppo spesso corrono in aiuto di una welfare statale che fa acqua. Nonni babysitter, nonni che con la loro pensione sostengono i nipoti, nonni che soprattutto al sud spesso reggono sulle loro spalle il peso di famiglie, di figli e nipoti che lavorano poco e male, con stipendi bassi o inesistenti. Eppure gli anziani in Italia, lo dice l'Istat, scontano una serie di problemi che invece di essere risolti aumentano. Intanto oltre un milione di over 70 sperimenta solitudine, indigenza, difficoltà motorie, senza aiuti adeguati per affrontare anche le più normali attività quotidiane. Un altro mezzo milione rischia di finire in RSA per la mancanza di sostegni domiciliari. Sono le associazioni e le onlus che si occupano principalmente di questa parte di società che invecchia a farsi sentire in occasione della giornata mondiale degli anziani della festa dei nonni che si celebrano rispettivamente il primo e il due ottobre. Chiedono al governo misure concrete in seguito al DDL anziani dello scorso gennaio. Nemmeno in Molise la situazione delle più rose. Aumenta il numero dei pensionati ma risultano sempre più poveri. A dirlo è Riccardo Mascolo della CISL. Le bollette sempre più care, i prezzi degli alimentari che lievitano, i disservizi della sanità mettono in seria difficoltà gli anziani. La fascia dei pensionati in Molise supera di gran lunga quella degli occupati, ricorda il responsabile CISL Antonio D'Alessandro. La politica dovrebbe raccogliere e valutare seriamente questi problemi per garantire una vita dignitosa agli anziani molisani. Soprattutto perché, e lo dice il censimento 2021, in Molise l'indice di vecchiaia, ossia l'indicatore usato nella statistica demografica, che mette da una parte gli under 15 e dall'altra gli oltre 65 anni, è altissimo 239, quando quello italiano è di 187. Valori superiori a 100, dice la statistica demografica, indicano una maggiore presenza di soggetti anziani rispetto ai giovanissimi. In Molise è oltre 200.